buon pomeriggio buon pomeriggio ben ritrovati su usa twitch benvenuto nirvolo benvenuto electron benvenuto davolo datolo scusami ciao paolo ciao ragazzi camina questa questa emoticon ciao albi benvenuti ragazzi siamo pronti per per ricominciare la nostra avventura interattiva ciao bamone ciao filzash ciao bodda luolan la volta scorsa abbiamo ciao simone abbiamo testato un gioco devo dire ciao carantez ciao youngat un gioco devo dire con alti e bassi e con pro e contro se devo proprio essere sincero ciao cituk nel senso che da un lato interessante essere messi alle strette con scelte morali eccetera eccetera dall'altro se vuoi fare un gioco credibile e quindi non un'avventura grafica la monkey island per cui ci sono tutte le gag di metagioco grazie gabri grazie degli otto mesi che possono giustificare qualunque cosa se tu devi prendere un oggetto al di una grata e hai qualunque cosa per farlo non puoi pretendere che uno si incaponisca alla ricerca di un oggetto specifico insomma ci sono tutta una serie di problemi anche come scrittura non è sempre splendido quindi devo dire che mi aspettavo di più da quel punto di vista e di meno da un punto di vista però del del pepe al culo tanto per essere fini ciao stinco di polpo grazie dei due mesi e quindi 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 stiamo a vedere insomma io senza grossi indugi partirei giuoca eccoci qua o chris continua uno dei tre personaggi che vediamo qui è morto ma insomma continua a causa nostra ok vediamo cosa succede benissimo 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 è dove eravamo riusciti teoricamente a rifugiarci sì 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 no perf ciao no no ma beni questo Lui ha perso la sua famiglia, lo sappiamo benissimo. La situazione è lunga dall'essere tranquilla, ovviamente. Ok, siamo in ballo. Lui è stato fatto. Ecco, ecco, ecco. Non c'è, ecco, ecco. Alla fine. Stasi in attacchiati. Stasi in attacchi. È un stato fatto. Stasi in attacchi. Stasi in attacchi. Stasi in attacchi. Stasi in attacchi. Stage 9 catastrofi per Atlanta. Ai 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 ai. Questa espressione. Trova i tuoi amici. Dice, secondo me la decisione è sbagliata, devi fare quello che devi fare. Cerchiamo di conservare con noi tutti, se ci riusciamo. Diciamo di che è sbagliato, anche perché è sbagliato. È una follia, una follia andare ad Atlanta. Credo che stai facendo la scuola wronge. Potremmo, ma io vorrei fare la scuola wronge o no, che fare la scuola wronge o no. Mi rispetto a te, mi rispetto a te. E noi, sai, se questo non è meglio, le persone saranno sbagliare, se la ragazza è sbagliata. Hai sentito. Grazie Elena. Esatto, Chituk, esatto. Non c'è una bella atmosfera, qua direi percorso obbligato, parleremo un po' alla volta con tutti. Sì, Ken. Sì, Ken. Un'aziettivo da lì. Grazie per me prendere. Non c'è problema. Ci dobbiamo prendere l'altro. Sì, dobbiamo. Sì, come di Clementine? Sì? Prima, ho detto che c'è qualcosa che c'è da qui, che potrebbe sbagliare una ragazza piccola come lei. Hai fatto. Sì, ancora credo che è vero, ma dopo quello che ho visto oggi, credo che tu prendere l'altro e l'altro prendere l'altro, voi due stanno bene bene. Ok. Ha accettato la situazione fra lì e Clementine. Lei è abbastanza inevitabilmente. Ok, qua non abbiamo altro dialogo. E questo è Doug. L'uomo che abbiamo scelto. Come sopravvissuto rispetto all'altra tizia. Che abbiamo lasciato morire. Doug, dovresti essere molto gentile con noi. salvare, potremmo? Ma pidi! Ma no. Lo accettò molto rápido. Sì. Sì, è stupido. Ci abbiamo incontrato. È dommo. Ma... Cioè, è probabilmente solo quella cosa del survivor. E mi piace davvero. Te la caperai! Sì, lo vedo. In ogni modo, preferiria essere solo, credo. Entendi. Aspetta, Lee? Cosa è, buddy? Come hai scelto? Probabilmente abbiamo bisogno di te. Hai scelto di me. Io volevo aiutarvi a entrambi. Siamo stati rimproverati proprio dalla persona che abbiamo scelto per vivere. Del fatto di averla scelta, di fatto. O di non aver potuto salvare tutti. Grazie mille, Luca, dei sedici mesi. Una situazione piuttosto tesa, eh. e non molto lieto fine della situazione di crisi precedente. Qui poi men che meno. Anzi, questo mi aspetta una pugnalata alle spalle dal vecchio. Ehi, Duck. Ti levi dalle balls. Grazie. Scusate. 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 Non c'erano molti figli qui. No. Non è così. È... Scusate ancora. Scusate. Scusate. E il mio walkie talkie è bruciato. Glenn ha avuto l'altro. Hanno suonato ma non andrò ad aprire. È solo un walkie talkie. Diciamo così. Probabilmente non era molto usato da cominciare. Non era solo un walkie talkie. Sento che non rende nessun senso. Ma è come ho avuto parlare con mia mamma e papà. E ora sono tornati. È tornato. Magari possiamo trovare un altro. Scusate. Scusate. Vieni qui per un secondo. Oh ma... Scusate. Scusate. Oh ma... Clementine. Un'altra cosa. Oh... Cosa vuoi? Scusate la mia figlia? Ma che cosa sta dicendo? Scusate. 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 Che carica di domanda? Scusate. 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 Ma se qualcosa succede a mia figlia o quella piccola che hai con te... Scusate. Scusate. Ma ragazzi? Solo io ho la sensazione che questo dialogo non abbia senso. Scusate. Hai un secondo? Scusate. 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 Ma che cretino! È lei la figlia! Scusate. 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 Non puoi essere così. Sei solo un uomo. Siamo fortunati di averlo. Scusate. 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 Quindi facciamo il campo base qui. Io anche. Ho occhi. Ho l'acqua. Ho l'acqua. Ho la mia prima volta. Ho la lua. Sono i piori... Io viiasmo dire il giro... Io penso che... non lo so. C'è molto ottimismo. Continua. Acchievamento. Tutto si risolverà per il meglio, vero? Prossimamente su The Walking Dead. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma è un trailer? Ma non voglio gli spoiler! Ma che è sta roba? Ma perché non li han tolti i trailer? Scusate. Ma che cazzo... E come lo schippo? Beh, sto premendo qualunque cosa. Ma che cazzo... Ma che cazzo... Vabbè, ok, ok. Cerchiamo di dimenticare quello che abbiamo visto. Onestà, mentito a Herschel. Tu e il 54% giocatori ha detto la verità. Doug o Sean? 48% hanno scelto Sean. Dalla parte di Kenny, il 54% hanno difeso Kenny. Hai dato a Irene la pistola. 47% l'ha dato la pistola. Doug o Carly? Il 51% ho scelto Doug. Incredibile, incredibile. Ok, 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 ok. Ci stava un po' di migliore... Gabri. Ci stava un po' di ottimizzazione migliore, nel senso che dai, abbiamo una collection completa. Toglimi trailer tra un episodio e l'altro, cazzarola. Ma veramente che fastidio sta cosa. Vabbè. Ma... Ma veramente? Ma ci sono i titoli di coda? Sì, sono tutte equilibrate le scelte. Il che in realtà è positivo, eh? Da un punto di vista della scrittura. Ragazzi... E come schippo, come schippo, come schippo. Cioè, non voglio andare in menu principale e dirgli scegli capitolo 2, perché vorrei che fosse il seguito del mio capitolo 1. Cioè, vorrei che si ricordasse le scelte, eccetera. Grazie, Andrea. Grazie del supporto. L'allenatore dei Mavs. Ragazzi, ci becchiamo dei titoli di coda. Quindi ci beccheremo... Sono cinque capitoli, ci beccheremo cinque titoli di coda. Dai. C'è Nick Mastroianni, però, attenzione. Eh, mi manda sempre qui. O io provo ad andare in menu principale. No, 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 no. Notifiche trama. Ah, deve essere... Togliamole comunque. Però non... Purtroppo non è quello che vorrei io. Ce li becchiamo, ragazzi, ce li becchiamo. Mi dispiace, ragazzoli. Che pacco, la devo smettere, scusate. Il gioco se lo ricorda. Si ricorderà che hai cercato di schippare i titoli di coda. Ma dai. Il bad ending, se schippi. Sono lunghissimi, tra l'altro. Ci ha lavorato veramente un sacco di gente. Che spoilerazzi, tra l'altro, sti trailer. È veramente way to fall. Dai, 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 che ce l'abbiamo fatta. Sì, potevamo finirlo l'uno del discorso. Sta cosa dobbiamo ricordarcela, eh. Cioè, l'ideale oggi sarebbe finire il secondo, ma chissà quanto è lungo. Posso giocare? Io farei gioca, che ti devo dire. Ma che cazzo sta succedendo? Ma quindi sono slegati, nel senso che le azioni di un capitolo non si ripercuotono sul capitolo successivo. È impossibile, uno è morto, l'altro è vivo. Ragazzi, però qui dice 0-1. Ah, bella, bella, bella. Invece, vedete? Statistiche, riavvolgi, cioè te lo puoi rigiocare. Però qua c'è continua, qua c'è gioca. Cioè, è assurdo. Noi possiamo andare nel capitolo 3, tra l'altro spoilerazzi. Cioè, nel senso, sappiamo che lì sopravvivrà fino al capitolo 3. Ma io vado, però. Boh, andiamo. Beh, vado, vado. Ok. Caricamenti manco forse The Witcher. Credence di The Walking Dead. I know who you are. I got another good one for you. You've been all by yourself through this. Yeah, I want my parents to come home now. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. Che cazzo. Hai anche riassunto. E uno l'ha appena giocato, dai. Ma forse io ho comprato l'edizione. Magari esiste l'edizione incollata meglio. Posso giocare? Posso giocare? Ok, dai. Dai che siamo in game. Titoli di testa. Va bene. Immaginatevi Super Mario fra il mondo 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Trailer. Titoli. Il livello 1, 2. Tre mesi dopo. Ah, devo fare... Ah, sto giocando. Buono a sapersi. Vai. Ah, rubano il cibo addirittura. Ha? Ah. I still can't believe we went through all that commissary food in three months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Rabbit's hardly a meal, Mark, but I'd take it. We're all hungry. No kidding. Last night I heard your friend Doug laying in bed just naming types of pie. He's driving me nuts. I think he's starting to lose it. Lo faccio anch'io. Why don't you cut him some slack? Tipi di sushi. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. Dovrei chiederlo a Lily. You'll have to ask Lily. She's the one handling the rash. Così, qualche info. Or miss handling it if you ask Kenny. He's just worried about his kid getting in now. Don't worry about Clementine too. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, it's not a lack of food. Kenny, it's not a lack of food. It's not a lack of food. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Ha una famiglia, sta meglio senza di noi. Beh, è vero che è una famiglia. Eh, giusto. Stai solo ballando a sua figlia? È un vecchio bastardo razzista. Non ne ho idea. Non diamogli del razzista a caso. Sì, ma in ogni caso è cardiopatico. Ai, 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 ai. Brutta sta gag. Oh, senti, hai il fucile da cecchino. Non sbagliare. È una lunga scuola. Ho bisogno di spostare le fulgine. Perché una delle frasi era di preoccupazione per il rumore? Mmh. Sì, era Kenny? Non lo so. Come on! Ai, 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 ai. Che cazzo? Una tagliona. Jesus Christ. Oh, shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off. Get it off. Goddammit. Get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Who raided to care? I don't know. Guys with guns. Please, we won't bother you, I swear. Lee, this is fucked up. Gotta help. Please. Ben, shut up. My dad was special questions. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. Please. What's he been bitten? Bitten? No, I swear. Hurry, please. Hurry, hurry. Eee, figurati. Lee, this trap has been altered. There's no release. Uff. È una trappola per zombie. Eh, lo vedo male. Lo vedo male. Lo vedo male. Walkers. Now we'll never leave. Please. Eh, c'è un solo modo, c'è un solo modo, c'è un solo modo, c'è un solo modo. Kenny, keep those walkers off of me. Eh, in realtà ci sarebbe un modo. Oh, man, oh, man. Lee, do this up, let me out. You have to get him out. What? You have to scream. We're going to be surrounded by any minute. Lee, do you think you can get it out? Oh, al diavolo. Fallo. Try to cut the chain. Oh, go. Do you know? But in effetti... Try to cut you out. Eh, sì. No, no, no. Try to trap her. Eh, mi dispiace, mi dispiace. È pesissimo. Ah, dici. Non trovo il putto di interazione. Ah, l'abbiamo tagliata, l'abbiamo tagliata. Ah, Cristo. Ah, no, è qua. Ma che lo carichino i suoi studenti? Ma dico, ma mettetevelo... Ma i due studenti che cazzo fanno? Ma travis che cazzo fanno? Non corre. No! No! Achievement, sentirsi affamati. In cerca d'aiuto. Ok, questa era un po' la premessa. Sì, alla fine potevano lasciare quello là. Ma il tizio era rimasto indietro, immobile, imbambolato. Ma non si è capita proprio questa gag. Comunque ricordiamoci che abbiamo tagliato la gamba a qualcuno. Che sicuramente ce lo ribecchiamo. Qua ci si annoia. Grazie, Mark Turnip. Grazie dei nove mesi. La situazione è piuttosto... Pessima. A cosa spari? Non sprecare. Sto giocando io? No. Basta. Togliete la palla, te la buco. Ah, siamo proprio... Altre bocche da sfamare, classico. Non c'è tempo per raccontare. Le, sei ok? Get him into the truck. I'll see what I can do. Kat, cani tu lo riempi? Jesus, Ken. Le... I don't know. Le! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you wanna calm down for a fucking minute? Hey, no, I don't. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group, right here, right now. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Um, no. Fine, you guys fight it out there. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Ma che cazzo se ne frega? Come on, ok? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. Kenny's right. Kenny's right. You're in charge of the food and the schedules, but you're not in charge of people's lives. Eh, giusto, giusto. You weren't there. Lee made a choice. End of story. Look, once Katcha patches that guy up, you can kick him out of here. Send him out on their own. I couldn't care less. But they at least deserve a fighting chance against the Walker. I find him chance. And for the record, Kenny wanted to leave those people behind. If Kenny would pull his head out of his ass for five seconds, he'd realize that I make these decisions to protect his family. We simply don't have enough food. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Ma questo non era cardiopatico, ma lo son sognato. Non aveva bisogno di una medicina ogni tre minuti, se no schiattava. You know what? If you think I'm doing such a shitty job, then you do it. Mi sa che qua il flirt... That's all the food we have for today. You decide who gets to eat. No, I'm serious. Pick up that food and start handing it out. You see how it feels to not have enough food for everyone. Cazzo rola. Inutile dire le malattie che ti prendi, a non prendere tutte le vitamine, tutte le sostanze necessarie. Non possono essere tutti sani, così, mangiando un cracker al giorno. Comunque, facciamo finta. Che cacchio? Se l'ha intascato? Ah, vedete, vedete, ce l'abbiamo qua sulla sinistra. Quindi ora distribuiremo il cibo. Parliamo solo, adesso ne chiediamo davanti. Ah, però la tipa in realtà è dei nostri. La moglie di Kenny, tipo. No, vai, 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 ci credo, ci credo. Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Sure, what do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. Ah. You know, I thought I was starting to get used to this, showing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing, but Blaine, this man has no leg. E cosa ti devo dire? I did the right thing. Yeah, I know you did. Ah, ok, manomai. The right thing is just scary sometimes, I guess. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Ah, peso. Sturdy. Better snack or hold up forever. Just like the rest of this place. Merda. Allegria. We dug through those for food a long time ago. Doug, gli abbiamo già salvato la pelle. Dargli da mangiare, mi sembra... Cioè, sembra che vogliamo farlo con lui, flirt. Hey, Doug. Si accontenterà di due chiacchiere. What's up, Lee? What are you working on, Doug? I've worked up a little warning system for outside. How does it work? I set up trip lines at four locations, and each one triggers one of these four bells. So... So we'll know where they are and how long we have. Smart. Vamo là, vamo là. Ok, 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 ok. Ok, è vero che il dottore del gruppo serve e avrebbe senso. Doug fa delle cose utili, si dà da fare. Anche questa è una cosa... Qui abbiamo dei bambini. Certo, sono il futuro della specie. Però... Come ti fai, Clementine? Ok. Where's your hat? Non so. Can you help me find it? Do you really need it? My dad gave it to me for my birthday. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Ok, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Doug for a while? Ok. Ci sono tre entità diverse. E non avremo cibo per tutti. Farci amico Kenny in realtà ha senso. Allora, vediamo intanto. The word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure that's the best idea. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Yeah, but he was leaving to find his friends. Your family is right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us. You and Clem. La costa è un'identelligente. La costa. Per prendere la barca. Secondo me ha ragione Kenny. Cioè, stare qui... D'altra parte abbiamo finito... La costa è sembra come una idea smart. Maybe that is the best thing. I know that it is. I'm taking my family. Ok, film così. Ci pensiamo un attimo. In effetti distribuire il cibo hai ragione la tipa. Vediamo Duck che cosa ci racconta. Sei un ragazzo molto coraggioso. Cioè, sei un ragazzo molto coraggioso quando abbiamo portato queste persone qui. Cioè, io so che la mamma può rincare. Cioè, sei un ragazzo. Cioè, sei un ragazzo. Me e Clementine stiamo colorando. Credo che cosa è. Non so, un ragazzo. Non. Oh, I know. È un ragazzo, certo? Non. Catcha l'anima, Duck. Bye, Leaf. È che dare da mangiare a qualcuno qui davanti agli altri è un po' strano. Perché vuole sapere del walkie-talkie? Ha un valore affettivo, ce l'ha già detto, ce l'ha già fatto capire. Hai detto che non pensi che ci trovassero noi. Beh, sì, ma è solo perché... Ma possiamo cercare di trovare loro. Guarda, Clementine. Non sono stupida, Lee. I know, it's just pretend. But it makes me feel better. Ok, you take good care of it then. Cazzo. Ok. I will. You'll be ok over here? Ok. Uh-huh. I'll be ok. Ok, Clementine. È molto più sveglia Clementine di lì. Ragazzo qua. Non lo so, ma Kaja will do il suo meglio. I promise. I can't believe you've chopped up his leg. Ah, vecchio, ma tutti ti rimproverano qualunque cosa fai, eh? Come stai e come te la passi, vorrei sapere la differenza. Eh, vecchio, è così, purtroppo. Questo sarebbe il come stai con me. Ben, Ben, Paul. Il mani che hai salvato è il Mr. Parker, il band director a mia scuola. Ci siamo tutti fuori da Stone Mountain per i play-offs, quando... quando tutto ciò è successo. Relax. Siamo tornando il tuo amico a normali in no time. Sì, spero. Almeno i figli hanno qualcosa per mantenere loro occupati. Ah, certo, è importante, c'è poco da dire. Ricordiamoci che dobbiamo trovare il cappello... Questo uomo vive incazzato, cioè, non ha mai un momento di... Eh, speriamo veramente di poterlo eliminare. Allora, qui abbiamo un dialogo prima con questo tizio. Ah, lei era sopra. Davvero, Cito, davvero. Lillia è piaciuta per noi. Sì, senti che i nostri intenzioni sono buoni, ma... Ma non c'è nulla. C'è una scuola che fa facendo la scuola. Esa parassite che hai raggiungato, bisogna andare. Nei aiutare un'obiettivo? Non c'è un'obiettivo. In realtà, potremmo usare il tuo amico. Ti senti, se lo prendiamo? Sì, ci senti un'obiettivo per un pozzo. Uh... che cacchio vuoi ma e adesso ci dobbiamo parlare tu hai bisogno di parlare con Lily per andare con Kenny Lily può fare le sue amiche non è per fare amiche siamo tutti in questo insieme, abbiamo bisogno di agire come questo stop tutto questo, saremmo bene senza tu Lily crede che dovremmo uscire queste nuove persone è vero, c'è troppo di persone che ci stanno qui continui su questa piazza non mi chiedi cosa fare, Lee madonna con lui abbiamo finito ok 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 magari gli veniva un colpo veramente a fargli usare l'asce sembra che qui a camminare abbiamo fatto non riesco a capire come parlare con la ragazza ah semplicemente da sotto ok allora chi vorremmo dare il cibo questa è la domanda primaria beh come dicevate non è assolutamente una boiata certo Clementine beh di base a Clementine dai non scherziamo e non lo prenderemo per lì ovviamente credo non si possa neanche carne secca, mezza mela, cracker e formaggio beh cracker e formaggio è più nutriente perché sono le proteine c'è il carboidrato c'è il grasso vediamo cracker e formaggio carne secca mezza mela è proprio poca roba andiamo a cracker e formaggio ok un sunday sarebbe meglio la prossima ahahah 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 ahah Cazzo, ok, tutti vogliono che diamo da mangiare a Duck, ma essendo piccolo e scemo, era la mia ultima scelta. Vabbè, Duck se la sta cavando bene, frega. Diamo da mangiare al cardiopatico. Non è il caso. Sentite, tutti vogliono che diamo da mangiare a Duck. Dando da mangiare a Duck faremo felici anche ai genitori, quindi diamo da mangiare a Duck, giustamente. Diamo da mangiare ai bambini. A cracker e formaggio ne abbiamo un sacco, però secondo me a Duck possiamo dare mezza mela, dai. Perché mangierebbe il burro d'arachidi con la mela? Però ha dimostrato entusiasmo per la mezza mela. Allora, diciamo che la famiglia l'abbiamo resa felice, quindi a Kenny non stiamo a dare. Potremmo dare da mangiare alla figlia più che al vecchio. Perché la figlia secondo me è ancora abbastanza ragionevole e poi le speranze di un flirt non muoiono mai. Finché la figlia è viva, la speranza di un flirt vive insieme a lei. Quindi ora le do da mangiare. E le daremo la roba buona. Ah, tra l'altro c'è da mangiare... Ah no, no, scemo io, scemo io perché prima dialoghiamo. Prima dialoghiamo, sorry, sorry, sorry. Prima dialoghi. Vediamo se ci mette di buon umore. Eh, parliamo di te e Kenny. L'ultimo uff fu sulla terra. E abbiamo bisogno di andarcene da qui, questa è una cosa veramente vera, cioè... Ma se stiamo finendo il cibo, Betts? Le diamo da mangiare. E le diamo cracker e formaggio. Ma pensa a sta stronza! Madonna, che stronza! Allora, 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 allora... Il tipo senza gamba... Ma... Potrebbero essere calorie sprecate, nel nulla. Pensiamo... Pensiamo a dare il cibo a qualcun altro. Ai bambini l'abbiamo dato, a lei abbiamo insistito. Sentite, diamolo a Kenny. Più che a Doug. Sì, tra l'altro, vero, cito, vero, vero. Sì. Ok, vi ricordo che se non ho capito male, nelle opzioni abbiamo tolto tutte quelle scritte, cosa si ricorderà, eccetera. Che ci stavano anche, però è meglio così. Seconda... Not an easy job, ovviamente. Abbiamo visto quanto è dura. Tutta gente a cui non abbiamo dato da mangiare, quella lì. Eh, vedete, vedete, queste sono le conseguenze. Ah, beh, c'è sempre così. Abbiamo assolutamente scelto il lato giusto. È morto. Vecchio, stai tornando a me. Che gli prende? Non sei così, Lee. Siamo tutti abbiamo visto la morte, ma questo non rende più facile. Lo sapete, vero? Lo sapete, vero, vero? Lo state pensando e lo state scrivendo, vero? Che cosa per l'altro figlio? Cosa, cosa, merda? Stavo leggendo, pesissimo. Ma mi ha colto totalmente di sorpresa. Non posso fare niente? Non posso fare niente? Ah, se lo sto muovendo! Donna, assurdo, mi ha completamente colto di sorpresa. Assurdo, veramente. Io stavo pensando... Stavo pensando di mangiarmelo. Ok. Ok, ok. Grazie dell'info. Ma sono morto! Ma quindi si zombificano alla velocità della luce. Cioè, io pensavo, questo è morto sano. Sono calorie. Ragazzi, terrificante, ma vero. Invece no, che cazzo dico. Cioè, veramente velocità incredibile. Veramente. Pensa se Davi lascia... Vabbè che l'ha usata molto male, Lascia, eh. L'ha usata veramente male. Adesso devo capire meglio che come cazzo si gioca sta parte qua. Ok, non ho soltanto capito un cazzo. Quindi mi devo muovere subito. Io più che dargli calci... Cosa mi devo inventare? Io mi sto cercando di muovere, ma... Cazzo, no, la via! Io cerco di muovermi, ma... Cazzo, no, ma tirati in piedi! Questo cade sempre nella vita, cade! Cioè, questo non ha una gamba, ma è molto più agile di lì. Io non ho più comandi, Vex. Cosa devo fare? Cazzarola. Cazzarola. Io mi dicevo che non è giocato. Cosa? Cosa? Mi chiamavamo a te, se è giocato, se è giocato, e io mi dicevo che non è giocato. Non è giocato! Non è giocato amico, non è giocato, è tornato alla vita e ho cercato di muovere la mia figlia. Cosa? Siamo tutti infetti. Cosa sono infetti? Cosa? Sì, credo così. Non so, non so. Allo che vedo è che ho visto persone turnare, che non sono mai scattati. Quando ho visto prima cosa succederemo, stavamo in un gioco e tutti pensavano che siamo finalmente segnati. Ma una delle ragazze, Jenny Pitcher, credo? E credo che non potrebbe prenderla. Ha tolto alcune pillole, ma molte di loro. Alguien si è andato nella sala di ragazze la prossima mattina, e... Dio... Cazzarola! Cazzarola! Questi sono sani, si fa per dire. Dio, funziona! Sì, funziona! Ho detto! Oh, cazzo! Da dove è arrivata questa stringa? Guarda dove stai andando, ragazzi. Cazzo. Chi sono queste persone? Non lo so. Sono le persone che hanno rinforzato il tuo camp? Non credo. Ma tutti hanno avuto i loro fatti, quindi non lo so. Cazzarola! 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 Ha ragione lei, eh? Ha ragione lei. Ha ragione lei. Ha ragione lei. Non so come sei ancora vivo, ragazzi. Scusa, Lily. No, 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 no. Non fare cazzate. Non, no, 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 no! Oh, cazzo! Ok, ok. Non problemi. Sei armato? Sì, per la protezione. Deccarli possono essere a ogni quale. Ma, ehm, io penso che tu hai l'altra mano qui. Non mi fido di questi due tizzi. Ai 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 ai, impossibile non ascoltare in questo caso, purtroppo. Dobbiamo farlo, non possiamo non farlo. Sicuramente. Abbiamo perduto la maggior parte dei cattoli, ma abbiamo ancora molti scegliere di scegliere. E con i vegetali che creiamo, abbiamo abbastanza di cibo. Grazie per venire, guarda. Che cosa sono usciti? Eh, vedete quanto è utile lui. E quindi iniziamo a immaginare cibo pensando degli zombie. Ma che palle, ma tutti vogliono sapere la vita, avete rotto il cazzo. Sì, vorrei rispondere sì. Una democrazia. È piano di coglioni. Eh, vaffanculo. Allora. 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 Eccoli, 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 eccoli. Eccoli, eccoli, eccoli. I predoni. Guarda, siamo armati. Possiamo camperare. Vero. Buono, un bersaglio solo. Dai, 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 dai. Eccoli. 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 Sono proprio curioso di vedere questa fattoria e quanto è sicura. Hoardo! Merdi. Ma hai avuto il generatore perfettamente? Hai avuto alcuni accedenti? No, è più sicuro qui da qui. Wow, hai abbastanza elettricità per andare al centro. E' worth proteggere. Perciò tutto il giusto. Ho pensato che vedi voi con la compagnia venire dalla droga. Poi, questo è il giusto. Sono Brinda St. John, e benvenuti al St. John's Derry. Questo è Lee. Si muove molto, ma se pensi come si sono, magari potremmo convinceremo di rimanere per un tempo. Ah, hanno un po' più amici che restano nel motel. Oh, mio Dio, questo posto è abbastanza vulnerabile. Hai avuto qualcuno con esperienza di sviluppare per guidare il vostro gruppo? Noi tutti lavoriamo insieme. Anche abbiamo abbastanza di persone con esperienza militare. Beh, è buono di sentire. Questo motel non è il più sicuro. in un'perché, oggi vi ci sono qui, noi abbiamo sicuramente puoi assicurità e l'acistica. E' buono di sentire. Alla prossima! Soprchiamo di garaone. di garaone di gasolina in paz, oltremmo di gara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno al mattino. Oh no! Oh no! Oh no! Scusi. Non puoi prendere le cose così. Non senza un uomo per il latte e il latte, sicuramente. Sì. Ho spero che Mabelle possa farlo con questo, o cosa che abbia con noi durante un tempo. Uomo uomo? Ma abbiamo un uomo. Oh, allora! Ma... Sembra tutto troppo bello. Potrei chiederti qualcuno con te, ricordi, queste strade possono essere pericolose. No problemi, Ben può venire con me. Togli questo. Allora, ci vediamo dopo. Ok. Questo sta raccogliendo tutte le informazioni possibili. Perché non ti guardi un po' di tempo? Quando ti sei sottile, potrei usare un'altra aiuta a sicurare il perimetro. C'è un problema? A volte, i morti si sottolineano nella fonte, prima che si fanno e finiscono a toccare un posto. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generator before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. C'è grossa differenza fra queste due opzioni. Dovremmo aiutarli, assicuriamoci che questo posto sia sicuro. Sono giuste tutte e due in realtà. Però prudenza, voglio essere prudente. Non sono i bambini, eh? L'altalena. Ok, ok, facciamo un giretto. Bye. Comunque l'ascia, l'accetta ce l'abbiamo. Io forse possiamo fare un'altra interazione, vediamo. I'm going to need some rope. There's got to be a board around here I can use as a seat. Ok, ok, quindi la mission per ripararla ce la siamo accollata. Comunque. Corda e asse. Ah, spietta. Sicuramente andremo, ma... No, 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 abbiamo appena parlato con qualcuno. Dov'è il tizio? Ah, è qua. No, 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 questo è il nostro, ma... Con chi diavolo e come abbiamo appena parlato? Qua c'è il generatore, qua c'è il tipo, eccolo. Vai, please. Please! Sì, 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 è lì. È lì, dai, please. Dai. Facciamo prima sta gag, su. Mi piace se usino una di queste board? Allora facendo dei riparati, eh? Mi piace il ragazzo che prende un'iniziativa. Sì, vai proprio inizio. Bene, bene, bene. Cosa positiva. Intasca, ma... Più tascabile di così. Ah, questa è la recensione elettrificata. Ah, immaginatevi quanto dovrebbe consumare una cosa del genere. Boh. Non so quanto sia realistico tutto ciò. Penso poco, ma non importa. Parliamo con lui. Sì. 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 Sì, è felice che voi decisavate di aiutare noi. Mi rupo, dopo il motello, che questi ragazzi sono molto benciviati. È stato costruito. Sì. Sì, se avete bisogno di alcune persone per proteggere la cattina, puoi comprare su noi. Sì, spero che non ci sarà mai arrivato, ma grazie. non possiamo essere le primi persone che avete invitato a la terra no, non, abbiamo fatto un rapporto simili con altri ragazzi uscite per gas e alimentare ma inoltre si sono riusciti per le persone che hanno perduto contatto un'elektrica è sufficiente per mantenere i walkers? walkers? è quello che si chiamate? è bene l'ultimo non avrebbe, ma Mac, il nostro foreman, ha scoperto come amperla con i generatori siamo venuti qui alcune notte a guardare i sons of bitches sizzle e pop quando si è troppo vicino la cosa più vicina di entertainment questi giorni, credo questi generatori sono sufficienti per poterlazionare il tutto l'aria? abbiamo molti, abbiamo bisogno di trattare per il combustibile come possiamo ma tutti lavorano insieme per fare il trip, come noi immaginati il valore della benzina ma come è destinato a salire nel tempo in una realtà come questa quindi totalmente non sostenibile, ma va bene ok bene, la benzina può stoprire il walker in circa 3 o 4 secondi ma si è trasformato se ci siamo lasciati i husks là tu sai, Mark e io possiamo scoprire la benzina ourselves se vuoi rimanere qui e finire con i generatori beh, questo sarebbe bello io avrò la seczione nord-west e se voi potrebbero riuscire e guardare alcuni punti brutti beh, questo sarebbe una grande aiutazione sembra facile guardate attenti non lo so però erano gentili, tranquilli però a noi sollevavano la corda per riparare l'altra lena che sembrava una cosa carina da fare e invece vabbè, non mi sembrava ci fosse eh, si poteva, no si potevano fare tante cose si poteva, non mi sembrava ecco la lì è morto come on, let's push it off Andy said when this fence is working the walkers go up like a tree branch on a power line if those lights are out, that means the fence is off, right? it better be speriamo di non lasciarci la pelle Cosa? Cosa pensi che era? Magari un farmhanno. Non lo so. Sembrano che non fosse così lungo prima che la finta lo finisse. Sì. Magari St. John si usano questo ragazzo per la pratica di target? Ah, un po' ragazzo. Non lo so, chi lo ha fatto prima, l'arrao o la finta. Inoltre, spero che è già morto. Disgustivo. Beh, 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 non la vedo però nell'inventario. Come on, sono sicuro che ci sono ancora un po' più. Allora, mi chiedeci. Una volta che la finta è tagliata, questo posto sarà una fortuna. Dio, puoi immagini di non preoccupare più di più dei walkers? Eh, beh, non è utile senza il gas. Potremmo bisogno di mangiare, ma i St. John's bisogno di gas, anche. Non ci sono molti driver questi giorni, Lee. Poi potremmo scruire un anno di gas, facile. Quindi, qual'è il tuo prendimento sui fratelli? Sì, sembra che hanno questo posto tagliato molto bene. E io sono per la stanno rimandando all'inevitabile. Questi ragazzi sono solo una landa inevitabile. Questo posto sarà scoperto, proprio come in ogni altro. Eh, magari sei certo. Perché in questa realtà non esiste più nessun tipo di organizzazione? Civile, social, niente. Boh. Allora, qui c'è solo l'interazione mano. Per cui tutto si riduce a sparuti gruppi, tutti si ammazzano fra di loro e nessuno. Gli vedi bene, ma proviamo a... Visto che fino a un minuto fa avevamo una società tipo... Tipo qua. Vediamo. Eh, questo è rimasto appeso. Eh... Ok, sbagliato. Bello. Nope. Haha. Le manine. Eh, ok. Eh, ok. E come la vedo male. Come la vedo male. Come la vedo male. Come la vedo male. Ma sei proprio andato dall'altra parte. Vets. Lo sta per fare anche lì? Fantastico. Eh, bella idea. Ottima idea. Bravi, ragazzi. Ma veramente? Really? Figurati! Ah, è lo stronzo! È lo stronzo! È lo stronzo incappucciato. C'aveva la... La balestra. Eh, sono... Beh, siamo fottuti. Non sono stati cattivi i tizi della fattoria. Che razza di gag! Cioè... Cosa devo dirti, PD? Qua non si riesce a fare niente. Aspetta, ho sbagliato. Non volevo ricliccare. Intanto consumi le frecce. Eh, ok, ok. Fanno, fanno, fanno. Stai buono. Qual è il tuo problem... Quale... Quale cazzo ha il tuo problema? Perché non lo fa? Adesso mi affaccio, mi affaccio. E figurati, ma pazza parla. Adesso con la freccia. Ah! Ah, ok. Sto giocando... Qua non sai mai se stai giocando, c'è... Sì. Sì. Dobbbero venire ad ucciderci con una facilità irrisoria. Aia. Sì. Adoro i colpi di scena di sto gioco. Ecco. Troppe cose poco credibili, però. Vabbè, qua si può guardare. Parliamo. Sì. 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 Oddio, grazie mega peso per i quattro mesi. Sì. 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 Quindi non è da chiacchierare. Sì. Non è da chiacchierare. Sì. 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 Cappiatti. Allora, eh... Mano qui. Eh, però no. Non funziona. Ah, devo sporgermi. Il gameplay, ragazzi. Freccia. Freccia laterale. Dammi un'interazione. Interazione. Fallo. Get closer, tu! Ancora! Ma quanti cazzo. Quanti? Quanti di queste cose abbiamo preso? Eh, facciamole. No, giù! Cosa fai? Pazzo. Ecco, figurati. Poteva non succedere. Poteva non succedere. Ma ancora? Dai, dai per scontato che gliene do mille. Sì. Sei sicuro che è andato... Ma... 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 Ce l'abbiamo attaccato qualcuno. Ma veramente... No. 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 Come è possibile che riusciamo a scappare? Non ha senso. Quante frecce hanno? No. 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 Non. No. cosa succeduta? Oh no, honey, come on, Brenda's got you. Come on inside, now. We'll have you all sorted out. What kind of shit is this? Cancello lasciato aperto. Erano mille bambini. You can't stop hassling us. God damn it! Doug said this place was safe. It was just a fluke thing. We can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor end. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with it. Do you know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Pandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor end. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out in this case. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's a real charming dad. Where's been a dog? Since Doug ate half the biscuits on the way to get us, I had to stay back. I still don't think we should be trying to stay here and someone's got to watch the motor and until we get back. Eh, boh. Ma ci possiamo fidare di sti tizi, mambo. I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. I hope your kids like swings. A swing! Ma sono qua anche loro! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Si lancia dall'altalena direttamente sulla... Sulla cosa elettrificata e... Vabbè. Allora. Quindi siamo di nuovo qui. Cerchiamo di prendercela comoda adesso. Hey Duck, ti spingo se vuoi. Hey Clam, ti piace la swing? Sì, è divertente. Be sure to tell Andy thank you, ok? I will. Will you push me on it? Sure. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Ok. What do you think of the dare? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? Yeah. I'm not sure when. One day. Things have got to be. That's good. I hope it's soon. Yeah. Me too. Non lo so ragazzi, siamo al capitolo 2 di 5. How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? You're lucky out there. It would have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Then we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky too. Ever since I met you, I've had good luck. So don't worry. Okay. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clint. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck. Don't pop a gasket. Ma cosa sto facendo? Volevo parlare con lui. Non si può. Si può. Ma cosa diavolo? Adesso ce lo prendiamo nelle gengive. Ok. Hey. Hey, Lee. Hai trovato qualcosa di interessante? I'm just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Ma le bian dat i cracker. If everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. It's funny considering you didn't seem too worried about Duck back at Herschel's farm. That's in the past, Kenny. A lot has happened since then. Yeah, right. Kenny, anche te non ti sei comportato splendidamente là, eh? How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. Thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? I guess, uh, Lily isn't too thrilled about being here? I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food. And I'm not about to sit around that motor in and watch him go hungry. You're with me on this, right? Yeah, of course. At least judgment is clever. But you got a pretty clear head about these things. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'd be a good opportunity to find out a bit more about the St. John's and their relationship with those bandits or whatever. Right. I'll see what I can find. Ahem. Io ormai ho battezzato Kenny come amico del cuore, eh? Poi vedremo. Adesso con grande calma prima di partire dobbiamo osservare tutto. Non sto capendo le interazioni. Ma Dio! Quindi era quella la cosa da osservare. Ma io voglio osservare anche qui. Proprio di fianco la cosa elettrificata. Boh, che strano. Eh, vabbè. A me puzza come si è accesa la corrente improvvisamente, però... Vediamo qua. Il generatore. Cioè, tutta la loro vita è appesa a questo affare. Ah, la si può andare a parlare. Ah, la si può andare a parlare. Credo che Mok e io eravamo successi che non avessero toccati questa cosa quando si è arrivato. Quindi... Vediamo qui. Poini. Poini? Ok. Quindi abbiamo gente con cui parlare qui e là. Partiamo da qui. Buon'idea. Qua c'è la stalla, eh. Questa benedetta vacca. Questa benedetta vacca. Deve essere fantastico. Siamo bisogno di sapere come mantenermelo se non rimaniamo qui. Ok. Molto buon senso da parte del nostro Lee. La telecamera reagisce in momenti inaspettati e inaspettabili. Vedere, prima di parlare, ok. Iniziamo col vecchio. Sentite, togliamoci il dente. Ok, il vecchio non presenta interagibili. Ma veramente? Non c'è un punto di vista. Tenere una figlia e un figlio e tutto ciò. Ma sbagliare con la vita della tua famiglia è abbastanza stupido se mi chiederti. Lee, conosco che tu e Kenny siamo amici. Ma ti riconosci che non è la giusta persona per guidare questo gruppo, non ti? Ma non ci deve essere un leader. Kenny crede che è ancora una speranza. Magari è quello che abbiamo bisogno adesso. Beh, la speranza non farà bene se siamo tutti morti. Sono concentrata per mantenermosci vivi. Paradossalmente avremmo... Ah, è quello che... Ce la stanno... Ce la stanno facendo pagare. Ma è il fatto che continui a fare cose sbagliate. Quindi continui ad avere gente che ti rimprovera. Ok. Tenere una figlia. È stato tre mesi. Il mio padre ancora mi trattava come se fosse un tipo di assolo. Si. Ma non ti aspettare a cambiare. È proprio come si è. Il mio padre ancora mi trattava come se fosse un tipo di assolo. Ma non è un ragazzo. Ma non è un ragazzo. Ma non è un ragazzo. È proprio... E ha perduto... Praticamente tutto. E lo ha sbagliato, sai? Sì, è bello e dolore. Ma è tutto per proteggere lui. E io. All'altro che ha iniziato nel mondo è io. E questo va in due mani. Quindi sì, probabilmente ti trattava come una roba, ma è solo perché ancora ha una cosa che mi piace. Quindi non lo giudisci. Non mi giudisci per rimanere con lui. È il mio padre. E lo amo. Mi dispiace, ma lo pagherete con la vita. Prima o poi avrò una scelta decisiva e potrete schiattare. Ma come ti senti per rimanere il motore? È una scena benvenuta di cambiamento. Non lo so. Se ci eravamo solo dove eravamo, allora Mark non avrebbe finito con un arro in sua piazza. Non è stato ucciso. Non è stato ucciso. Che traduzione è? Pensi che il nostro approccio con loro è una buona idea? È un po' tardi per chiedere questo ora, non ti pensi? Il padre è vero. Alliamo solo aspettare per il minuto. E poi se Mark sta scegliando, ci rimaneremo. Non voglio imparare il nostro successo. No, no. Non dovremmo essere costretto. Ora andiamo a andare a cercare cose. Ma non fai troppo pesante. Questi tipi di persone normalmente sono molto protettive della sua privacità. Sì. E non necessitiamo te per toccare il tuo naso dove non c'è. E ci rimaneremo fuori dai nostri assi. Le comodità al vecchio piacciono, eh. Forse abbiamo altre cose da dire. Ok, no, nessuno. Ok. Ok. Scusate. Avevo fretta di far finire questo dialogo ma non c'è verso. Ok. Qua abbiamo fatto i dialoghi che dovevamo fare. Proseguiamo. Regia. E lì tra l'altro c'è il tridente di Nettuno lì. Come cacchio si chiama quella roba nel mondo delle fattorie? Una forca, un forcone tipo. Ok. Qua abbiamo fatto. Chissà se avremmo potuto noi riparare. Prima sono andato involontariamente di fretta. Vediamo un po' i due. Chissà. 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 No. Ok. Per favore, sei fortunato! Ok. Vedete qualcosa? Non ancora. Lo so che è qui. Deve essere aperto. Ma il senso di una ricognizione? Cioè no, ci può stare, per carità. Ma andare in due così? Boh. Here. Here. Oh, shit. Ho trovato? Non hanno nessun tipo di ricinzione. Non possono sopravvivere in mezzo a tutti i morti viventi. Come cavolo fanno? Come possono accamparsi? Non ha senso. Non possono essere sopravvissuti così. Allora. Avvicinati di soppiatto all'accampamento. Ah, io ci provo. Non vedo cose da fare per il momento. Omaggio. Ok. Non vedete qualcuno? Eh, sì. Sì, però non... Se muore il tizio e noi torniamo indietro dicendo che è morto il tizio, siamo fottuti. Eh... Eh... Cosa sta per succedere a pieno di... Di walkers. Perché devi... Perché devi fare questa cazzata? Ma la devi proprio fare questa cazzata. Sorride, quindi sta per morire. No. No, no. Hanno giocato con i nostri sentimenti e le nostre aspettative. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ok, sto guardando i rifiuti anziché raccogliere la roba utile, ma sapete che si parte sempre dalle cose meno importanti a questo invece tanta roba. Ah, che sfiga. Se sarebbe stato molto utile. Da, non c'è niente. Che cosa... Lo decido io che cosa c'è? Ok. Ok. Oh, 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 oh. Cosa da la cazzatura qui? Probabilmente la comida che ci siamo dato. I f***i hanno avuto una linea. Ma io lì ho visto... Ah no, no, quella bottiglia non è una super figata. Ma cosa stiamo? Cosa sto... Vabbè. Abbiamo spostato le scatole, sembrava che rivelasse, chissà che... Raga... Non finisce bene. Il tent sembra abbastanza nuovo. C'è qualcuno dentro? Due bagli dormitori. Uno di loro è un figlio. Non sono del tutto appagato dall'osservazione qui. Eppure non c'è un cat, niente. Andiamo qua. Ma qui addirittura ancora bolle l'acqua, ma dai. Just water. Just water. Come suona male, ragazzi. Andiamo qua. Che voce. Che voce, ragazzi. Nothing. Empti. Niente. Empti. Empti. What?! E' un iPod? Vecchissimo modello? Più o meno? Una videocamera. Vediamoci quello. La batteria è morta, però. Oh, bene. Che altro hanno qui? Vediamo se possiamo trovare qualcosa di utile e poi andiamo a andare. Continuo a non fidarmi di nessuno. Vedo che tu hai portato quella scuola e ti sento molto bene. Oh, signor, ma che palle. Ma chi comanda, chi non comanda. Ma avete rotto, Dio. Allora, volevo vedere la sedia. Dirà, ah, ma c'è ancora il calco caldo di un culo. Stiamo a cazzeggiare? Io non ho capito. Vabbè. Devi proprio... Vuoi dormire? Vuoi analizzare con quella lucina a stile CSI per vedere se ci sono tracce di lasciamo perdere? Vediamo. Una madre e una figlia. Ai, 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 ai. Ah, man. Oh, cos'è? Oh. Oh. Rihanna? Ma che cazzo è successo? Oh Cristo! C'è due fucili contro una balestra. C'è un crossbow e mettere un'escritto di un'escritto allo sull'escritto. Non sei un uomo, sei un monstri. Tutti i uomo sono un monstri. Prendete quello che vogliono e poi destruite tutto. Prendete una canta di bambini, prendete una piccola. È tutto il proprio stesso per te. Che dove hai la tua bambina? La piccola? Tu lo scopi di lei! Quindi cosa se io lo scopi? Tu lo scopi di lei! C'è un po' di me! Cosa stai parlando? Vedi cosa? Ho cambiato la mia mente. Sto mettendo questo aro all'interno dei tuoi balli. Sì, all'interno. Stringerlo sull'escritto. Prendete l'escritto. Prendete l'escritto all'escritto che vedo. Prendete l'escritto. No, signor, ho bisogno. Ho bisogno di uccidere i tuoi fucchi. Hai una freccia sola, non... Vai! Diciamo, ragazzi! Diciamo cosa hai in mente! PORCA VACCA! PORCA VACCA! PORCA VACCA! God damn it! Strettamente uccidere l'escritto! In effetti, su questo non si può... Achievement! Grazie per aver fatto acquisti da Save Lots! Ragazzi, ovviamente! Ma io vorrei... Farei due domande! Purtroppo questa... Questa signora... Sua figlia... Cosa è successo a sua figlia? La sensazione è che... Avessero offerto ospitalità a lei e a sua figlia e... Abbiano fatto qualcosa di terribile alla bambina... Il cappello! Il cappello! Lì! Lì! Il cappe... Lì! Il cappello! Grazie, Maurix! Grazie mille dei sei mesi! Il cappello, lì! Il cappello! Il cappello! Il cappello! Ma dagli tutto! Ma dagli tutto! Hai un fucile e una balestra! Tieni anche il mio fucile! Visto che... Mi fido! Ma io non lo so! Allora che è successo? Questo non è quello che Terry vorrebbe volerlo! Terry? Il mio suono! Il mi piace ogni giorno! Allora si è scoperto per tutti! Perché non ti? Oh calma, princesa! Lo faccio io! Ma che cazzo! Ma sta gente litiga ininterrottamente! Non lo so! Il cappello sembra che... Molta tensione con te, eh? Non possono convenire su niente! Non possono convenire su niente! Nooo, è solo un momento difficile! Tutti è pieno! Tutti è pieno e le persone si fanno freddo quando il loro tumore è inutile! E Lei? Non ti preoccupi di te, le bandanti! Non ti preoccupi di te, le bandanti! Non ti preoccupi di avervivenci più violenza di più che ho pensato in te, ma tutti sono sicuri qui! Non ti preoccupi! Non ti preoccupi! Non ti preoccupi di farlo! Il cibo sarà pronto prima di te lo sai! E grazie a te, il mio amico, Katja, che mi ha fatto! Ma chissà cosa mangiamo stasera! Ragazzi, però sono un po'... Oramai... Oramai... Oh, cazzo! I cannibali durante l'apocalisse zombie ormai... Sono quasi diventati stereotipi! Allora, 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 cazzeggiamo! Cioè, no! Nel senso, facciamo tutto quello che c'è da fare prima di avanzare! Questi sono due fucili che abbiamo dovuto dare! Sono tutti e due nostri! Sì! Non è una pistola! Ma come cazzo l'ha introdotto? Una vacca sola? Ma come cazzo l'ha introdotto? Ma come cazzo l'ha introdotto! Cazzo l'ha introdotto? Cazzo l'ha introdotto! Cazzo l'ha introdotto! Ma ho il tuo amico di te, qui ora! Cazzo l'ha introdotto! Cazzo l'ha introdotto! Non ancora più! Banditi, ovviamente! Cazzo l'ha introdotto di scuola per le tue. Cazzo l'ha introdotto! Cazzo l'ha introdotto! Un po' più inquietante! Un po' più inquietante! Pagnotte di umano! Tutto fissuto! Questo dovrebbe rendere tutti felici! Tutte le cose da osservare in realtà sono sempre le stesse! Tranne, 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 tranne questa! Questa è interessante! Che cos'è? Apri là! Piglia tutto! Piglialo! Adesso te lo faccio pigliare! Bravo! Vedrete che servirà tantissimo! Anche perché sembra che possa fare anche, diciamo, da tronchese, da robo per aprire le robe qua. Un coso per le cose, un robo per le robe, insomma, avete capito. Allora, là dentro ci sono i regats. Anzi, le regats, teoricamente. Però prima andiamo a fare del dialogo. Sempre con i più simpatici della compa. Ma c'è un osserva? Per questo gazebo? Ma io non so, parliamo. Ma io non so, parliamo. E' davvero molto utile. Seriosamente? Non cibo? Gesù! Mi domando se qualcosa continua qui. Cosa vuol dire mi domando se qualcosa continua qui? Eh, Kenny, come al solito è un passo avanti, ragazzi. Qua Kenny! Ehm... Ehm, bene questo? Anche, preferendo? Ehm, chiedendo qui il nostro amore. Aspettando le nostre cuore. E, passando, ci siamo piano a passare su amietà. Un sogno a salzare la carta a destra kille ma c'è. Ma io mi sembra che il tuo amore è un agendamento, uguale. Cosa vuole guardia? Allora, che puro guardia? E' un po' sbagliato. E' un po' sbagliato. Ehm, che si fai un po' sbagliato. Di provo di un po' sbagliato. Non c'è un po' sbagliato. in realtà in realtà hai già detto in realtà la cosa più intelligente da fare se davvero sono tre la tipa e i due tipi cioè si potrebbe pensare se poi sono dei creepy mangiatori di uomini insomma la cosa più simpatica da fare sarebbe conquistarla sta cazzo di fattoria tipo comunque andiamo a vedere qua ok e si entra qui dentro la mucca con i bimbi la veterinaria e il tizio poverina è ok Clementine tu puoi ammettarla è ok vai è ok wow Katia dice che Mabel potrebbe avere un bambino tonight ah incinta il che è? no te che cos'è questo? che cos'è? danny dice che sono chiamato un sale sì ma non li pagarlo è gross un blocco di sale che cos'è? che cos'è? non lo so quindi è per le mucche io non me ne intendo è per le mucche si dà un blocco di sale non lo sapevo vabbè prima cazzeggiamo ovviamente che si fa qui? Siamo entrati In un alloggiamento E non c'è la mano per uscire Ragazzi È game over Però se ci mette l'opzione Magari troviamo roba Vero Vero che troviamo delle cose speciali Non sembra il caso Non sembra il caso Quindi si usa Si usa il blocco di Sai Eh guardate qua c'è proprio un blocco Eh qua c'è roba abbiamo fatto benissimo Stranina sta cosa eh E qua c'è qualcosa Però non Che sguardo torvo Hydrating Fluido idratante Ma che cazzo Vabbè andiamo Ah ok Quindi c'è per cavalli capri Bovini Bene 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 Bella per Mr. Google Non so perché sto cazzeggiando Però insomma è pur sempre Tradizione punta e clicca MT Ragazzi che voce Che voce che ha il nostro lì ragazzi Fantastica Ok andiamo qua Senti lì quando nessuno ti vede lecca quel sale Fallo Non c'è niente Ma insomma Forse è qui Non siamo proprio Nascosti eh Non siamo proprio stealth A questo punto Noi abbiamo da chiacchierare Ah ma insomma diamo Anzi prima chiacchieriamo Poi le diamo il cappello Poi parliamo con lui Poi anzi guardiamo prima la vacca Accava la vacca Non c'è niente Mi hatta! Tu l'ai trovato! Tu avessi che ho bisogno! Tu mi ha detto che era un presentaggio di tuo padre. Hai detto, hai avuto il tuo hatta a qualcuno? Hai visto alcuni stranieri all'interno del motore che avessero lì? No. Perché? È probabilmente nulla. Dessere me sapere se tu avessi qualcosa di così. Ok, io lo so. Hai, Lee? Hai pensi che tu avessi avessi figli? Non lo so, non ho pensato di avere figli in un po' lungo tempo. Sì, grazie per trovare la mia hata. Tu sei benvenuto, Clint. Vuoi impettare la caccia con me? No, ma puoi seguire. Ma potresti pettarla anche tu, poverina. Hai perduto qualcosa? No, non davvero. Mmm, è molto divertente in qui. Come duty. I figli. Oh, non lo so. Hey there, Andy. Sì? Abbiamo trovato questa ragazza nel bosco. Si sembrava che conosce il tuo fratello. Ah, sì. Ah, probabilmente parlare un po' di più. Ah, quando pensi che potremmo mangiare? Cosa, eh? Non ti preoccupi. Momma cucina una buona gruva. Com'è la caccia? Beh, meglio che ora abbiamo Doc sul caccio. Grazie. Sì. No! Mi sono sbagliato. No, fammi tornare indietro. Fammi tornare... No, fammi tornare... Non andare avanti col gioco. Si poteva interagire... No! Allora, come è una uova come te? Questo... Questo sì che flirta. No, ho riuscito bene. Poi ho avuto i miei figli per aiutare. Non posso farlo senza. Tuoni, eh? Dà un bel pezzo. Scusate, ma... C'era interagibile in realtà? La porta in fondo. Perchè mi devi fare una cazzina? Dai, per favore! Ok, andiamo qua. Per quanto... Insomma... Ci sia un lucchetto ad essere proprio pignoli. Tu hai trovato anche, eh? Li, ci stanno scendendo qualcosa... Di questo porta. Ho bisogno di una piccola. Ci sono un pochettino di cose... E qualcosa di metodo e di fattore. Non ti fai paranoi. È mio lavoro di essere paranoi, Li. Ho tutta la mia famiglia in questo farm. Ma cosa cosa di te? Cosa di Clem? Eh, c'è lì. Hai ragione. Cosa di Clem? Il mio punto è che abbiamo bisogno di sicuramente. Allora, vai trovare una cazzina o qualcosa... E ho avuto questa cosa in un secondo. Mi porti in caso di quelli farmaci venivano a riuscire. Eh, c'è lì. Hai voglia. Hai voglia. Guarda che Kenny è sempre un passo avanti. Allora, professor, cosa hai in mente? Vi faccio vedere cosa stiamo parlando prima. Noi, purtroppo, non abbiamo un cacciavite. Maledizione. E ci servirebbe tanto. Sai, un po' di stereotipi. Tremendo. Noi. 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 Un cacciavite. Un cacciavite. Un cacciavite. Andy. Che cacciavite. Mi pensavo fosse Danny. Ma che cosa. Posso aiutare i ragazzi a trovare qualcosa di più? Eh, ma so cazzi. Amari. Un cacciavite. Un cacciavite. Un cacciavite. Un cacciavite. Non ho mai stato a una farmacia di farmacia. Non si roma senza me o Danny. La farmacia può essere un paese. Svegli, i banditi e tutto. Scusate per i tuoi amici. Ehi, mi fai un favore. Non sbagliare con questa porta. E' solo... Vabbè, mamma è nervosa. Andrew, ho bisogno di voi ancora. No problemi. Allora, doc. Ho cercato di evitare cose troppo palesi. Distrai Andy per farlo uscire dal fienile? Ma l'ha appena chiamato sua madre. Distrai Andy, proprio. Mi cazzo lo distraggo, Andy. Eh... Non... Non chiacchierandoci. Sì. Ma noi non abbiamo comunque PD! Non abbiamo il cacciavite! Ma noi... Ma vabbè, 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 vabbè. Avremmo dovuto prima cercare meglio per avere l'oggetto. Scommetto. Eh, beh... Sentite... È tuo. È così multiuso da fare, addirittura da svitare le viti. Perché la mi dava l'interagibile solo per usarlo con veemenza. Ok, facciamo questo. Facciamo questo. Dai, vaffanculo! Ho sbagliato io, quindi. Non avrei dovuto... Non mi sarei dovuto fermare a parlare. Dai, du. Eh, devo andare a parlare. Sì. Allora. No, 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 no. Oh, sì. Ma non può funzionare così. Vediamo, 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 vediamo. Vediamo cosa possiamo inventarci. Accidenti. Come si nascondono scatolette di tonno? Non credo che parlare con lei abbia... troppo senso, adesso. Cosa sta succedendo, Lee? C'è qualcosa che succede? C'è qualcosa che sta succedendo con quella barra. Sto dicendo, Lee, quanto più ci siamo qui, quanto più ci siamo in problemi. Eh, lo stanno capendo tutti. Se vuoi andare in là e iniziare a raccogliare le tue altre persone, se vuoi andare in là, se vuoi andare in là. Ma se vuoi per me, noi dovremmo prendere la nostra città e andare. Dopo quello che Kenny ha detto, sono iniziato a pensare che stanno cercando di farlo. Tu due stanno chiesto per problemi. Ma se vuoi insisti per andare in là, se vuoi essere attacchiata, sono attacchiata, Lee. Ehm. 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 Beh 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 beh. Se noi riuscissimo, parlando con Danny, ad avere una scusa più simpatica per poi farli chiamare Andy, sarebbe già tanta roba. Tipo. No? Là ci sono i due che flirtano. Hello. I saw a wheelbarrow over there full of garbage. Some bloody clothes. Things happen on the dairy. Cut myself down bad just the other day. Blood everywhere. You sing, okay? I'm tough. I'm tough. It'll be a good one. I'm tough. Hello. I'm gonna go wait for supper there. It'll be a good one. Finirà malissimo. Malissimo. We'll, uh, we'll finish talking later. Che cazza? Ah beh così. You been getting along with Larry? Haha, he's just a big ol' sweetheart, ain't he? Uh, Don't judge honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity. Oh man. Oh man. How's Mark doing there? Best patient I ever had. Oh my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Before she died, we met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. So... What are you all keeping in mind? But I haven't resisted. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I don't mean to pry. It's nothing interesting. I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know? They gotta go have a look around. Kind of peaceful out here, isn't it? Enjoy while you can. You'll probably start hearing those monsters They're trying against fans before they fall too long. Mmm. 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 Che attraio. Allora ci giochiamo semplicemente on. Il tizio volido ha di nuovo bisogno di te. Aspetta. Power switch. Mmm. Perché mai dovrei spegnerlo? Perché mai dovrei spegnerlo? Perché mai dovrei spegnerlo? Però è interessante il fatto che si possa fare. Adesso dobbiamo giocarcela bene. Deve essere un automatismo di quel tipo, altrimenti non è fattibile. Ehi, Andy. Ho sbagliato prima fermarmi a parlare con Kenny. Danny needs something again. Ok, ok. Ok. Non è boiato, allora. Adesso c'è il trigger. Adesso c'è il trigger. Muoviti, please. Fallo, fallo, fallo. Fallo, fallo. Fallo, let's do this. Ma PD! I'm back. Ho capito cosa devo fare. 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 Scusate. Yeah. No! Ho sbagliato. Ho sbagliato. Il generatore, il generatore, sì. All right then. Ho sbagliato. Porca vacca. Pensavo di chiudere la porta del fienile, ma non aveva tanto senso. Porca miseria. No. Incidente. Vediamo. Vediamo se è ancora fattibile. Maledizione. Spero di sì. Lo faccio. Ma nessuno dice niente, eh? Così, sereni? Il Buono. Comun crystal. Là cissare il ruoto. Iletera. Qua. 形a del meu sango Pasciano. Perf allora? Cioè abbiamo un problema Abbiamo un problema Da un punto di vista della nostra non ubiquità Come cavolo faccio a E quante volte ancora dovremo beccarci Questa piccola cazza Eh, rompere il generatore Mi sembra talmente una follia Ammesso che sia possibile Chissà se lui mi dà qualche consiglio Vediamo se ne dà una dritta Sì, ma vecchia non funziona Eh, certo ci vorrebbe che lo facesse qualcun altro Ma chi? Forse i ragazzi? Vediamo, vediamo, vediamo Chiediamo alla tipa e al padre Ci sono solo loro in fondo D'altra parte in questo modo avrebbe avuto senso Andare a interagire con il dialogo Fra il tizio e la tizia E adesso il tizio è interagibile Ho fatto male a non venire qua allora Vediamo Buono, bene Un dialogo costruttivo No, ma fammi una bazza però No, eh Bene, 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 bene Estremamente vero che posso interagire con il mucchio di paglia Potrebbe non essere Una sciocchezza invece Grazie Claudio Grazie del supporto Vediamo Io con la recensione potrei interagire eventualmente Se C'è questa cosa che è sempre stata stranina Considerate che io non posso prendere gli oggetti nell'inventario E fare quello che voglio Quindi deve essere qualcosa che viene spontaneo Ehi Eccoci qua Eccoci qua Bisognava solo osservare meglio Non preoccupare Ce l'hai Ah vedete, vedete quanto è multiuso È super multiuso Adesso facciamo la bazza Certo ragazzi Andiamo a distruggere il generatore che Cioè per fare questa cosa Facciamo un danno incredibile a tutta la fattoria Cioè ovvio che lo facciamo però Porca vacca E' tipo spegnilo Vero? Prima che arrivi il tipo Opp In che mondo questa è una buona idea Guarda No qua questa cosa è obbligata Sono va Tornato Non è dentro please Grazie Io non lo faccio il dialoghino Come vanno le cose No ma poi non c'è neanche posto È mosso Cazzi Lui non si rende conto che lascia la porta La famosa Libera Dovrebbe chiamare il fratello Ho messo che sia un fratello Allora Ce l'abbiamo fatta Andiamo dritto per dritto E vediamo che cosa scopriamo adesso Una serie di eventi Ci chiamano per cena Una serie di eventi Una più folle dell'altra Comunque Chi farebbe male Cosa del genere Ok Ok honey Let's get that Dad Dad Ragazzi Ragazzi non rompete il collo Let's eat Kenny Come along honey Kenny come on Don't make the children wait I'll make an excuse for you Get that thing off Ma vi rendete conto che abbiamo tolto l'elettrificazione E siamo tutti esposti ai walker E questa cosa che non ha comunque un cazzo di senso È una follia Però Per trovare la verità A quanto pare È chiaro che ora arriva l'orda È chiaro Sicuro Sicuro Classico Fattoria buttata Addio fattoria Manni Grazie a tutti Sì, senti la bellissima? C'è la mattina. Perché c'era così tanto sangue in là? Guarda, abbiamo cibo qui, ma Danny e io abbiamo ancora bisogno fare un po' di città per mantenere tutti freddi. Quando ci troviamo qualcosa nella città, lo facciamo e lo facciamo lì. Mamma non piace a noi fare una messa in la casa. Quindi, vedete, niente da rispondere. Oh, ok, così. Cioè, tra l'altro, abbiamo forzato... Si era teletrasportato alle sue spalle. Tra l'altro è vero che potrebbe anche essere, tra l'altro. Oh, boi! Scusate, messa, abbiamo avuto bloccato la porta dopo che Walker si è arrivato le stagioni. Non ti preoccuparti. Questo era un po' prima e non è stato tornato all'interno. Scusate. Tutti sentite, ora andiamo a prendere la città. Oh! Questo è un piacere! Potrei mangiare un uomo. Onde è Mark? Ora non ti preoccuparti. Ho già portato un po' di città. Lasciatelo restare. Secondo me, Mark è la cena, eh? Come se faccio le mie mani prima? L'bathroom è proprio in l'interno. E sicuro di andare sotto i tuoi neri. Tu hai diventato sbagliato all'interno tutto il giorno. Vabbè, adesso l'Aurea! Il tuo diploma di scuola. Ma quello non sembra... Questo deve essere Terry. Non sembrava un po' il tipo che era rimasto impigliato. No, 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 no. I walkers non sono arrivati a quella cosa. Cazzo, lì c'è il bagno, ma ovviamente... Con calma. Ah, non ci fa interagire con quella porta? Possiamo tornare? Chiunque! Allora, se proviamo ad entrare... Chiunque! Ok, 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 ok. Già, do per scontato che non ci sia un reale timer, eh! Potrei usare un sbaglio. Pagliare. Pagliare. Quale tipo di luce. Mi spiace, ma dovevo prima vedere se c'erano delle bazze. E ora scopriremo che cosa c'è per cena. Occhio! Pagliare. Porca vacca! Questo cavo... Accidenti. Una porta. Il cavo va di là, eh. Apri il porta a camera da letto. E con queste informazioni che abbiamo in anticipo... Porta dell'armadio. Partiamo dall'armadio. Porca vacca. Cosa diavolo! Musty as hell. Eughh. Cosa è questa roba? Sembra come un sacco di spazio medici in qui. I.B. tube. Saline. Che cosa i farmaci necessitano con questo tipo di strada? Perchè necessitano tanto di morfina. Morfina. Candle. Smart. Eughh. Cosa è questa roba? Sembra come un sacco di spazio medici in qui. Ehm. Cosa è questa roba? Sembra come un sacco di spazio medici in qui. E abbiamo anche due scopi. Cosa necessitano i farmaci di raffinamento con questo tipo di strada? Ehm. Cosa sta a fare questo cordo? Perchè lo faccio? Non lo so. Che cosa diavolo c'è di là? Dai 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 dai. Chiudi. Chiudi la porta. Indietro. Lascia aperto. Non c'è modo di chiudere. Vabbè. Abbiamo deciso che... Eh beh beh non si nota neanche guarda. Sangue. Guardate il Caravaggio. Guardate il Caravaggio. Fantastico. Eh sì. In tutti i sensi. Quello è Salomè con... col Battista. Se non sbaglio. Quindi la decapitazione. E' questo blu? Ehm. Medici. Blei? Ciccetti. 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 Ehm. Ciccetti. I morso gazzi. E' moso gazzi. E' moso gazzi. Ce l'avevo anche su Facebook Quelli ma Cristo Stanno mangiando Stanno mangiando tutti Oh ok ok c'è fretta Ok ma se no si potremmo fare delle gag Cioè nel senso Ma vai io sto mettendocela tutta Eh troppo tardi Spit that out Lee What's going on Lee Jesus man Did you find something Oh sit your ass down Lee This lady has made you a meal Yeah Lee what's gotten into you He just had a start He could use some goddamn manners You're eating human meat That's crazy What the hell I'm scaring the kids Lee Lee what the hell is wrong with you Don't indulge him Lily There's always something with this guy Mom I was eating that What is going on We need to get the kids Everyone out of here We need to go now Everything could have turned out Not okay for you folks He would have died anyway We gotta think about living Settle down honey Growing up in rural Georgia You're taught not to waste It's how I was raised And how I raised my balls Now you got monsters roaming around That do nothing but eat people And for what To continue to rock till they eat some more We think we can put that meat to better use Oh I'm gonna puke We outnumber you Lee that's not a very nice thing to imply Andy is right We go after folks who were gonna die anyway One way or another Like y'all Kenny get your gun Kenny no Nobody's going anywhere PD Ma certo dovevi pigliarli lo subito il fucile Ma perché non l'ha fatto L'aveva visto Pooah Ma, fa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Check the gun We're walking out of here I'm not going near my fucking family Mommy, I don't want to die Mommy, what did I eat? Everyone? Everything will be okay He said 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 it Ma... ah, signore. Oh, signore. Achievement, indovina chi viene a cena. I can't keep us in here. Open up, I will tear you fuckers apart with my bare hand. We've got to find another way out of here. You sick fucking bastard. Open this door, goddammit. I will knock the goddamn door down. It was a person I ate meat from a person. Does that mean I'm going to turn into... No, Clem, non funziona così. Se lui avessi fermato a noi in tempo... Come on, padre, ora non è il momento. C'è un modo fuori? Si, fra questa piazza! Se non so che tocco la mia famiglia, vi farò i tuoi figli! Ci sono uscire qui. Credo che è un gioco di carne. Quei psicologi avevano te in giro! Open up! Tu figli di figli! Padre, parla! E questo figli di figli è stato il che abbiamo portato qui! C'è un gioco? Non so. Non so. Va bene. Siamo trovare un modo fuori qui. No! No! C'è un gioco! Padre, c'è! C'è un gioco! 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 Questa è troppo legato! P. Sì, Sì, si. C'è un gioco. C'è un gioco che c'è stato il gioco! a me you must really hate me but guess what you're stuck with me i plan to be around long after you're gone and if you turn i'll be the one to put the axe through your skull no you're not worth the energy to hate don't forget i know who you really are come on try yourself you're not making things any easier for us open the fucking door god damn it there's more of us on the way your dad's not making things any easier for us open the fucking door god damn it they're not gonna open the door they've caught your duck the fuckers have my family i know we're gonna get out of here and find out dad this isn't helping i'll break that damn door dad you can't get out oh final oh grazie oh god oh si occhio che si trasforma no occhio che si trasforma subito la testa la testa la testa fuck il volume il volume fuck you we can bring him back leave but right now we have to keep him from coming back no god damn it kenny he's not dead we can't kill him if he's not dead kenny remember how hard it was for you to get that monster off of kacha and larry's twice his size it's him or us look kenny back at the drugstore when we all thought duck was bitten i gave him the benefit of the doubt maybe we should do the same now that was different duck wasn't bitten but come on we know this guy's not gonna make it remember what ben said gotta destroy the brain ah right about this i know you've got my back you always do god damn it lee i need you please help me come on dad come on wake up wake up you're right kitty let's get this over these parts i don't want to see no 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 get off please don't do this no 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 let go of me e allora zio no 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 oh no 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 E si disinfetta Troppo sale ti ucciderà Achievement Era morto Non potevamo correre Esattamente Esattamente Ha senso quello che abbiamo fatto Ha senso Ha senso Ha senso Ha senso Dai 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 che la troviamo la via per uscire Ma più che altro rompeva le barri Vabbè ragazzi Eh credo che qualche Trauma piccino a crescere in questa realtà Se lo becca Se lo becca Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ma no Noi non l'odiamo Ma perché dobbiamo odiare Kelly? Ma puoi avere me Forse non è ancora Too soon Un po' presto Di cosa abbiamo bisogno Non lo so Dai facciamo la bazza Che questa chiaramente è la bazza Ehm C'erano chiuso con un tunnel Per uscire Classico Eh In teoria ce l'hai no? Ce l'hai Eh certo Ah che schifo Vediamo Intanto piove Si sente la pioggia E a mano È impossibile È impossibile Chiaramente Dovevi trovare un oggetto E ce ne sono due lì Ok E va bene Dammi controllo Dammi controllo Ok Qua muro invisibile Qui finisce la stanza Ok Oh Kenny Non è che te ce l'hai la moneta Non abbiamo tante cose Con cui interagire Cioè a parte i personaggi Ok Questo l'abbiamo visto Eh ma anch'io ho pensato al cadavere Purtroppo in questi momenti In realtà ti vengono in mente Proprio quelle cose lì Perché devi pensare in modo Utile E credo Qua non c'è niente Credo che sia davvero Davvero quella L'interazione che dobbiamo fare Perché è proprio lei che ci diceva Eh vai via Noi dobbiamo riuscire a bypassare lei E lei è il nemico in questo momento Pesissimo Non rimarremo in tanti alla fine del gioco Grazie Nuri Ok 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 Quindi qua c'è l'evoluzione È vero è vero è vero che l'aveva detto Ma ti sembra Ma ti sembra Tu lute il suo corpo Dai lo sai che ha droppato una monetina Fammela piglià Cazzo Cazzo Oh e allora Zio C'è veramente Oh signore Oh signor Beh lì ci saranno le boletine Scusa Oh signore La sua tessera di donatore di sangue La persona migliore Mai esistita Pezzicero bello Pesissimo Ok Abbiamo le monetine Facciamolo Senza chiacchierare Dai Facciamolo e basta Eh immagino caro Fallo Consentimi di farlo Bravissimo Ok Georgia Manco un euro No sbagliato tasto Stai buonino Ok Ah si Clementine E' arrivato il momento Sì che lo devi fare per forza Oh Non lo devi fare per forza Ricordi il bosco Che hai scelto per giorni E ho salvato la tua vita Eh è vero Ok Vai Clementine Mamma mia che suoni poco Tranquillizzante Non lo devi fare per la tua Ma ti rendi conto delle circostanze, porca! Ma come stay here? Dobbiamo scappare dalla fattoria, ovviamente saprà arrivare anche l'invasione zombie, classico. L'orda arriva, ragazzi, l'orda è, io la do per scontata. Oh, povero Kenny, io penso che abbia appena realizzato qualcosa di raccapricciante. Oddio, spero... oh signor, oh signor. Mamma mia, oddio. Ho detto che c'era qualcosa in questa ruota. È una uomo di uomo di uomo. Uomo di uomo di uomo. Che mattatoio non rende proprio l'idea, eh? No, 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 prendi falce, era bello. Ma perché è lì? Perché è lì che il sangue era lì? Lì. Cosa guardi? T'avevo detto di guardare sopra. Guarda il tuo sangue, è liberato. Questo che scivola con una facilità... Prendi alla falce. Yes! Adesso un martello, adesso siamo a posto. Però! No! Beh, 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 non lo so se preferisco. Non lo so. In realtà la falce è una figata, scusa. Beh, la falce è tanta roba. Quel coso lì si impiglia. Il gancio per la paglia. Per quanto? Adesso lo diciamo. Ok, qua non si interagisce. Ma sì, era meglio rimanere là e morire Sto gioco ha questo problema Deve non essere sempre Credibile purtroppo Oh, Taser E figurati Però il Taser Devo dire la verità, il Taser mi ispira Devo dire la verità Il Taser mi sa di tanta roba Eh, mi sa anche me Non lo so però La falce uccide con più facilità Questo coso che si impiglia non mi piace Il Taser è più pietoso, diciamo così Non c'è la Claymore, davvero Quella sì che avrebbe fatto la differenza Sentitemi, fido del Taser Andiamo di Taser Ok, facciamolo Facciamolo Let's go Perché ti sei alzato? Sei purchinato Che cos'è l'IS? Cos'è intendi, Frank? Cos'è intendi, Frank? My life is strange Cosa ti devo dire? Lo faccio Non si vede niente, let's Non si vede niente Ma cosa ti devo dire? Non si vede un... Ah, vaffanculo Eh, temo di essermi preso un Game Over in faccia Il Taser è stato troppo buono Però vabbè, buono che lui avesse la falcetta Il falcetto Non si vede niente Quindi altri possono vivere Cos'è intendi Concierto fatta la ragazza L'alba in faccia Si vede niente Spero che vede niente Non si vede niente Traswy la stoppare Non si vede niente Se mi mui Le motore Vaiكون Non si vede Non si vede Mi mui Si Non si Niente La testa, la testa, blocco di sale, la testa, la testa, la testa, io non avevo capito che c'era sempre Clementine che guarda. E qua sicuramente si sarebbe stata la scritta, hai perso la fiducia di Clementine, sei un fottuto assassino, questo non gli abbiamo fatto niente alla testa, questo sta per diventare uno zombie, ok, non facciamo niente, a posto, ma io non lo so. Achievement, la presa di Charlotte. Sì, è vero, non si può muovere, è vero, ha la gamba bloccata, hai tragiato. Età, è vero, è vero, è vero. oh e dog 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 ma cosa è morris code ma quasi blindi ma sono scusate ma ho fatto scusate scusate Sì, è stato un po' di bambino. Cosa sta succedendo? Questi sono f***i f***i! Lo ho conosco! Mi dicevi che non possiamo confiare loro! Onde è tutti? Cosa possiamo fare per aiutare? Larry è morto! Ci sono chiamati Marki e cercano di farciare loro! Sì, è morto! Ci sono ancora ancora a Duck e Katja in casa! E non lo so dove è Kinny. Allora, siamo arrivati per aiutare! No, se stiamo in casa, ci causiamo una panica. Tu due provi a trovare un'altra parte. Ok, è una buona gara. Ok, è una buona gara. È una buona gara, è una buona gara. Sì, no. Sì. Oh, signore di... Dai, accelera! Oh, eh... Oh, non lo so, non lo so! Non lo so, niente! Non lo so, niente! Non lo so, niente! Andy? Danny, è tu? Cosa sta qui? E' io! Ci ha creduto? Questo era il nostro... Questo era... Questo era lo stealth? Ma che razza di azione è? Vabbè... Ma che razza di azione è? Vabbè... Oh, ma... Ma questa ci spara! Non è vero! Non lo so, niente! No, non così! Non così! Non così! Non così! Non così! Non così! Ma non è che ci sono molte alternative a schermo? Andiamo, Brenda! Ok... Please! Please, non ti prendi un altro passo! Brenda! Come ora! Tu sai che non vuoi fare questo! Andiamo! Andiamo! Non ho movimento laterale! Non posso andare indietro! Il dialogo non avanza se io non faccio niente! Faccio un passo! Un altro passo! Un altro passo! Che cacchio! Non c'è nessuna interazione! Devo castare alla distanza! Ah! C'è del dialogo! A meno male! Pensi su il tuo figlio, Brenda! Potrebbe essere che il suo agricolo sia tornata in una... ... una caccia? Buona, buona idea! Un uomo! È il nostro amico! Fammi interagire! Fammi parlare accidenti! Vieni qui! Non fai nulla cosa stupida! Ma... cosa è successo, Brenda? La tua famiglia era ovviamente smart, eh? Come si è arrivato a questo? Prendi! Non voglio ucciderti, Lee! La tua famiglia era la tua, guarda quello che hai fatto con lui! Prendi! Non ho chiesto! Si sono arrivati, dove è Teddy? D'accordo, non muovi, assholes! Non ti f***ing f***i! Oh, mio Dio! Let'le andare, goddammit! F***! That' non va bene! D'accordo! Go, shut up! Oh, s***! D'accordo! D'accordo! Chi del f***i pensi che sei? Guarda cosa hai fatto! Calm down! Calm down! Cosa per? Cosa per? Cosa per? Cosa per? Cosa per? Gli play, ragazzi! Ok! Ma prima volta Y, sì! Aia! Ah! Ripigliati! Aia! Nessuno aiuta! Mi sono arrivati! Ah! Che brutta figlia! Aia! Ma io più che premere gli.. gli implosi, E vai a zappare Merda Questa è difficilissima Oh cazzo Questi sono livelli osselo Oh cazzo E' pesissimo E' pesissimo Chissà se riesco a non anticipare I colpi Vai 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 Devo mettermi così Ci vuole Sabaku Ti prego ti prego ti prego No 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 E' assurdo è assurdo No 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 Nooo! Biii! Porca vacca, non ha sparato quella maledetta! Pugno! 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 Pugno, zio! Aveva... c'era un significato? No, ma vai a caga... E non vedo, ma mettimi il puntatore dove deve andare, vaffanculo! Cagare... Non vedo un... cazzo, zio! Ma non si vede! Metti il puntatore dove deve andare... ma porca te... Splicissimo! Che gameplay del cazzo! Non pensiamoci adesso, non è il momento adesso! Ciao! Ma questo è ancora vivo! Non si vede, ma sta fuori! È ancora vivo! Cazzo, te! Non puoi andare fuori da me, Lee! Voi qui e finisci questo, Lee! Ma Kenny! Ma Kenny! Ma Kenny è morto! Ah, Kenny è vivo! Onesta, era là a terra fino a un nanosecondo fa, va bene. Lei si è zombificata. Ragazzi, c'è di ruolo. Tra virgolette. Non ha senso. Non ha senso. Eh, questo può essere un nemico, può essere... Non ha senso. E poi si fotta un cazzo di cannibale, oh! E sarò considerato spietato carnefico. Intanto siamo sopravvissuti. Achievement. Combatti come un lattaio. Che non so se è un complimento. Clementine, non puoi farmi... Oddio, ci guarda malissimo. Ci sta guardando malissimo. Oh, ragazzi. C'è... Il cambio di espressione. Ma sì che l'abbiamo fermata. Questa, videocamera. Questa... Come fai a dire I'll be fine? Hai un proiettile in pancia. Ok, vabbè, l'aveva preso di striscio forse. Ma cavolo, I'll be fine. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah. I would imagine so. What do you think? I'm with you, Kenny. We'll do what has to be done. You're damn right. You're damn right! Ah, ormai abbiamo scelto il nostro... Stay close. Lee, hai dovuto uccidere questi uccidini? Che tu visto che! Sì, mi dispiace che tu visto che... Ma si uccidavano Mark e ci si uccidavano tutti noi. Ci hanno bisogno di stoppare. Entendete? Sì, credo. Hey, padre. What's that noise? Sounds like a car. Oh, no, no more strangers. Che succede? Non è un po' strana sta cosa? Trappolone? Non si scelta! Siamo qui per aiutare! Avvicinati lentamente all'auto. Ok. Non è proprio una strada... con un bel asfalto. Baby, devi vedere questo! E' un'assalto di food e di supplies back here. E' un'assalto di food e di supplies back here. E' un'assalto di food could save all of us. Not all of us. Oh, e' un'assalto di rezz 아마. è zombie uccidile. Oh, c'è un'assalto di food... Ma c'è chi è che lascia un'auto così? Abbiamo bisogno di prendere questo, Clementine. Abbiamo bisogno di survivere. Chi dice che è la tua decisione di fare? Hey, non abbiamo tempo per questo s*****o. Come un uomo, ti pare? Ora vieni qua e apri il tronco, Lee. Questo stava svenendo prima che si prendesse un proiettile. Non lo facciamo mangiare? Ragazzi, cos'è lanciato la macchina? Così sono morti. Nessuno lascerebbe la macchina così. A meno che non sia una trappola, però è un rischio che dobbiamo correre. Cioè, mi dispiace, ma non ci sono proprio dubbi. Non abbiamo la chiave! Che palle! Sì, invece. Posto. Ma che belle animazioni, porca macchina. Molto. Potremmo survivere questo, dopo tutto. Duck, perché non ti prendi questo? Ok. Ok. Ma è un bel finale, invece! È un bel finale, sì, tra l'altro, questi problemi. No, allora non mangiare! Allora tu non mangi! Pensa a te. Ho una bocca di comida qui! Cioè, purtroppo è lotta per la sopravvivenza, eh! Survivor of the fittest! C'è anche una felpa! Si, coli. Cosa! Cosa? Cosa. Non abbiamo la mia. E' la mia. Non è come le banditti, honey. Non abbiamo perduto nessuno per farlo. Entendete? Penso che così. Qui, Clem. Vuoi delle batterie? Ehi, Lee. Attenzione, attenzione. Achievement. Non è rubare se ne hai bisogno. Non è proprio così, però in una situazione del genere. Ah, ci filmavano. Ci filmavano. Ci studiavano. Jake, Bart, Linda, e tutti voi sticcoli da S.A.V.L.O.G. Si chiamano voi banditti, ma voi stai fredditi! Oh, amore, guarda te. Guarda te. Certo. Oh, hai bisogno di una mamma, amore. Noi non lasciamo quelli banditti a te. No. Ok. Certo. Eh, certo. No. 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 Però poi... No. 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 Non lo so, ragazzi. In questo The Walking Dead, boh... Allora, ho mozzato la gamba... Beh, sono nel 43% che ha deciso di mozzare la gamba. hai sparato a Jolene no, l'ho ascoltata hai aiutato a uccidere Larry 49% ok hai ucciso due fratelli li ho uccisi entrambi 39% hai rubato cibo dall'auto 51% va bene non così tragico ok 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 ragazzi abbiamo fatto un capitolo più o meno dovremmo fare un capitolo a live non dovrebbe durare tantissimo è intrippante il fatto che c'è a ogni pièce spinto quasi c'è un colpo di scena e quindi ti prende insomma però ci sono troppe cose che sembrano fatte con l'avanti veloce mentre alcune cose sono lentissime infatti come approfondimento come sviluppo psicologico dei personaggi non è un gran che poi ci sono troppe troppe scene stereotipate è tutto un déjà vu comunque anche se oramai è un soggetto talmente abusato non lo so non lo so è divertente ti costringe comunque a delle scelte difficilissime cioè quello sicuramente sì le scelte sono comunque pese le scelte sono pese vedremo vedremo abbiamo ancora tre capitoli per tre lunedì poi passeremo a qualcos'altro direi indicativamente vediamo come come va a finire ma a me non mi sta non mi sta intrippando più di tanto il rapporto fra Lee e Clementine perché sembra tutto incollato tutte le cose incollate l'una sull'altra alla fine tu fai i cazzi tuoi poi di tanto parli con Clementine fai il padre ma è già dal capitolo scorso che abbiamo smesso di condividere robe pesissime insieme proprio di trama no? sì un po' un po' così un po' così un po' così sì va bene va bene ragazzi io vi ringrazio per aver seguito naturalmente ci vediamo giovedì sera giovedì sera facciamo alle 21 sicuramente Simon settimo contro Artorias e vediamo quanto ci mettiamo se ci mettiamo poco magari dopo proviamo qualche altro titolo qualcosa one shot qualcosa di simpa se no sarà una serata di dolore contro Artorias ma secondo me si gestisce sono ottimista comunque grazie per aver seguito ragazzi poi venerdì naturalmente fai una fantasy 10 e benone buonasera ciao ragazzi grazie